Musica Salve amici appassionati Football Manager qui con voi come sempre c'è Micro94 e ovviamente Football Manager Italia siamo qui col Bologna per continuare la serie consigli di inizio carriera appunto col Bologna prima di iniziare però vi volevo dire che per fortuna ho avuto tante richieste per questa serie per consigli di inizio carriera e quindi vi volevo dire di non dispiacervi se un video che voi mi avete chiesto di fare sarà fatto dopo un po' di tempo ma perché appunto essendoci tante richieste non posso fare tutti subito cerco anche di essere più democratico possibile e quindi di fare appunto esaudire fra virgolette le richieste che sono state fatte prima per prima appunto quindi dopo il Bologna ci sarà che ne so il Pavia, il Genova, il Nottingham Forest, il Sassuolo, la Salernitana poi l'Udinese e poi il Napoli e poi via così quindi non vi dispiacere se tipo un vostro video uscirà dopo un mese ma purtroppo sono questi i tempi e nel caso invece poi vedrò che le richieste per questi video aumenteranno sempre di più che ne so farò due video a settimana di consigli di inizio carriera poi vediamo detto questo il Bologna il Bologna fra virgolette è un po' il Palermo dell'anno scorso quindi una squadra già quasi pronta per ritornare in Serie A forse il Palermo aveva qualche campioncino in più come Dybala o Hernandez però il Bologna non è che è scarso lo staff è ottimo non vi consiglio di mandar via nessuno perché sono veramente tutti ottimi l'unica cosa che vi consiglio è di settare così i preparatori perché quando li ho controllati erano messi davvero a cazzo di cane quindi vi consiglio di metterli così l'Under 20 vi consiglio anche di tenere d'occhio l'Under 20 perché è piena di campioncini il primo che mi viene in mente è Jansen o anche Radakovic non riesco mai a pronunciarlo Radakovic che in futuro diventerà un ottimo mediano e vi serviranno tanti mediani perché avete un centrocampo un po' vecchiotto detto questo partiamo a bomba con la prima squadra con Ferdinando Coppola vi consiglio di tenerlo a meno per quest'anno e vi servirà soprattutto per fare da chioccia a Stojanovic quindi vi consiglio di tenerlo titolarissimo un altro anno lo potrà ben fare assolutamente soprattutto poi un altro anno in Serie B secondo me lo può fare benissimo e poi appunto dare spazio molto a Stojanovic 20enne già l'anno scorso lo tenevo molto d'occhio perché era anche in scadenza infatti anche qui in scadenza rinnovatevi assolutamente il contratto perché diventerà molto molto forte come un po' l'anno scorso semmai poi l'anno prossimo vi auguro di arrivare in Serie A che affiancate un altro portiere comunque forte di esperienza non vecchio come Coppola ma comunque sulla Trentina così da alternarli insomma soprattutto poi da usare il portiere Trentenne in partite anche un po' più difficilotte dove appunto serve l'esperienza comunque ci sono tanti portieri svincolati insomma si trovano soprattutto poi il secondo anno se ben vi ricordate allo Spezia abbiamo trovato Perin svincolato quindi ci sono ci sono ecco detto questo Filippo Lombardi 24 anni portiere scarso no vi consiglio assolutamente di mandarlo via perché non vale proprio la pena tenerlo rapporto una stellina 24 anni non vi consiglio proprio di tenerlo Garix invece ottimo ex Napoli terzino destro titolarissimo ovviamente come anche Omar Leo però per l'altra fascia ex Crotone no mi ricordavo Parma invece no ottimo ripeto terzino sinistro da tenere e da far giocare titolare Maietta Bologna ha pochi pochi difensori centrali soprattutto buoni difensori centrali e Maietta è uno di questi 31enne esperto vi consiglio sempre di tenerlo e di farlo giocare titolare Oikonomu giovanissimo 21 anni anche lui molto molto valio soprattutto in futuro tenetevelo stretto ripeto perché si potrà rivelare un ottimo difensore centrale per il futuro Lorenzo Paramatti invece ho sbagliato qui a metterlo titolare comunque Lorenzo Paramatti l'ho preso dall'Under 20 proprio perché abbiamo pochissimi difensori centrali quindi ho preso lui per fare proprio il panchinaro fra virgolette di emergenza Rafa Paez invece in prestito da Liverpool non mi piace tanto cioè nel senso non possiamo nemmeno riscaltarlo o meglio si lo possiamo riscaltare a 3 milioni e 2 ma non ne vale la pena perché per il momento non è sta grande cosa quindi vi consiglio di mandarlo via di farlo ritorna in dita anche che non mi pare che prende proprio ah no vabbè non prende tanto però ripeto non ne vale proprio la pena Luca Ceccarelli invece terzino destro difensore centrale anche terzino sinistro all'occorrenza comunque non si prende tanto come panchinaro secondo me è ottimo perché qualità tecniche sono veramente buone qualità fisiche per un terzino forse un po' lentuccio ma ragazzi a 31 anni ripeto secondo me può far ancora tanto bene come Mattia Sabero 24 anni un po' più giovane dovrebbe migliorare un po' in contrasti questo lo potete fare in allenamento però secondo me come panchinaro è davvero ottimo Matuzanem 34 anni si prende un bel po' di soldi però ragazzi io quest'ultimo anno in serie B lo farei fare perché secondo me è un ottimo ottimo regista perché dico solo ultimo anno e non più anni per due cose uno per l'ingaggio un milione e uno non sono pochi e due l'integrità fisica sette fa davvero spavento quindi io quest'anno glielo farei fare l'anno prossimo vedete un po' anche dal rendimento anche perché noi abbiamo veramente due spicci un milione di budget e Montengagy circa 15 milioni quindi veramente pochissimo e quindi quest'anno io lo farei fare assolutamente come farei fare anche quest'altro anno da titolarissimo a Diego Perez in verità proverai anche a rinnovare il contratto perché chiede veramente poco e perché effettivamente è un ottimo mediano impegno determinazione assolutamente titolarissimo Michele Pazienza invece un altro che prende un bel po' di soldi e gli farei fare sì quest'anno perché comunque ha un'ottima esperienza ex Napoli Juventus Udinese Fiorentina quindi quest'anno in Serie B lo farei fare l'anno prossimo ci penserei due volte o almeno cercare di limare di tanto l'ingaggio Eric Friberg 28 anni invece lui lo terrei perché non è tanto vecchio si prende comunque relativamente poco potrebbe essere utile anche per l'anno prossimo sempre se è arrivato in Serie A può essere utile proprio come Panchinaro è un buon centrocampista completo Zuculini ragazzi lo sapete il mio amore per questo giocatore l'ho sempre consigliato l'anno scorso quando era svincolato e consiglio ancora oggi di tenerlo fortemente perché diventerà tanto tanto forte l'anno scorso veramente era una belba secondo il mio modesto parere cioè veramente era un giocatore svincolato da prendere in qualsiasi squadra quest'anno è al Bologna e io vi consiglio vivamente fortemente di tenerlo che è fortissimo Federico Casarini ottimo Panchinaro non prende tanto è in scadenza io proverò a rinnovare il contratto giusto per non è male ecco quindi provate a rinnovarvi semmai vi chiederà sicuramente un bel po' di più rinnovate il contratto poi vedete potete anche venderlo però non è affatto male ecco Buschel se lo pronuncio bene in prestito dalla Juve questo non può essere riscattato ecco su questo sono abbastanza certo anche che l'abbiamo appena visto e l'unica cosa è prende un bel po' di soldi 600.000 euro l'anno non è scarso è un buon centrocampista però ragazzi non lo potete prendere cioè facciamo crescere un giocatore della Juventus e non nostro e lo paghiamo non poco quindi non vi consiglio di mandarlo via ma vi consiglio pensatevi di mandarlo via insomma fate voi fate voi però io un pensierino ce lo farei ecco per mandarlo via ripeto Marti Rivero vi scusate Riverola invece vi consiglio di mandarlo via cioè provate a vendolo se non ci riuscite ve lo tenete comunque non è scarso assolutamente non è scarso però c'è c'è di meglio insomma c'è c'è tanto di meglio però nel caso tenetelo ecco Karim Laribi invece l'ho messo addirittura a titolare buon buon trequartista Troia Agnello invece non lo so fate voi perché a 31 anni prende 300.000 euro in prestito al Palermo a una buona velocità l'unica cosa tipo il cross basso dribbling basso controllo di palla basso finalizzazione bassa non lo so non mi convince appieno però non è nemmeno scarso potreste anche tenerlo visto che non prende poi così tanti soldi invece chi mandere via è Kisli Umenengbu perché si è molto veloce però poi non ha più niente come rapporto a due stelline e mezzo se ci fate quei due 100.000 euro comunque fate un buon affare idem con Patate per Riccardo Pasi eppure ancora più lento ha un rapporto ancora più basso quindi manderei via anche lui Riccardo in prota invece l'ho messo addirittura fra i titolari un buon trequartista in prestito idem per Luca Giannone tutti i trequartisti sono solo in prestito mi spiace l'anno prossimo in Serie A dovete fare un po' quello che abbiamo fatto noi con lo Spezia cioè dovrete rifare la squadra o meglio molti giocatori li dovete riprendere però si fa Bessa invece l'avrei mandato via ma visto che non prende niente teniamoci cioè non lo paghiamo proprio almeno un diciamo una riserva di emergenza Caccia invece ottimo secondo me in questa Serie B farà sfaceli a Football Manager a meno idem con Patate per Acqua Fresca ottimo prende un bordello di soldi però sono due attaccanti che secondo me anche l'anno prossimo vi ritroverete insomma per la Serie A insomma ho detto 36 volte insomma Rodriguez invece io proverei a venderlo non è scarso però a 23 anni si può anche trovare qualche giocatore migliore insomma soprattutto se riuscite a farci su 700.000 euro potete trovare di meglio e ovviamente andremo a vedere e qualche giocatore migliore e infine Bentham Kurt lo rimande anche lui indietro all'Atalanta anche se ni perché si prende comunque abbastanza poco quindi pensateci su anche per lui perché comunque può essere un buon panchinaro detto questo andiamo a vedere la tattica Coppola in porta Morleo Maglietta Garix ci manca un difensore centrale Perez Zuculini Matuzza Minprota Laribi Cacia o Acqua Fresca insomma decidete voi qui semmai ci potete anche mettere Bentham Kurt in prestito però io vi consiglierò comunque uno o due difensori centrali perché effettivamente ci manca e un attaccante al centrocampo comunque siamo pieni Pazzini poi c'abbiamo Casarini poi c'abbiamo Friberg poi i tre titolari Zuculini Matuzza Pérez poi anche gli stessi tre quartisti possono appunto giocare al centrocampo quindi in teoria tra la tre quarti e il centrocampo siamo a posto io vi consiglierò un difensore centrale sbarra due e almeno un attaccante per il futuro visto che Bentham Kurt potete decidere sì o no se mandarlo via o meno e poi alla tre quarti veramente siamo pieni di giocatori in prestito però io li terrei perché sono tutti molto validi poi l'anno prossimo avete anche un Jansien in più che comunque diventa buono Pierluigi Ferrari anche un buon portiere sebbene vi ricordate l'anno scorso l'abbiamo preso allo Spezia è comunque cresciuto parecchio e niente ragazzi andiamo a vedere chi vi consiglio scusate sbaglio sempre lista selezionati allora come difensori ci sono un po' di parametri zero un po' più in là con l'età e un po' di due giocatori della serie B o della serie C comunque Alessandro Tuia lo prendereste con circa 500.000 euro si prende veramente poco però un buon difensore l'unica pecca è l'integrità fisica e soprattutto le qualità mentali ripeto l'ho messo perché è un acquisto è un giocatore giovane che prendete con poco però ripeto che qualità mentali da migliorare assolutamente è un'integrità fisica che fa paura cosa che invece pecche che non ha invece Simone Romagnoli 24 anni secondo me ottimo difensore centrale soprattutto questa serie B l'unica cosa è che costa un po' di più circa un milione un milione e mezzo però ragazzi non cioè ne vale la pena perché vi trovate un buon difensore anche per l'anno prossimo invece se vogliamo risparmiare c'è Ogucionevu che l'ho messo perché si prende con due spicci e comunque tralasciando il periodo del Milan è sempre stato un ottimo difensore sia per gli Stati Uniti ma io mi ricordo che il periodo standard league che comunque ha fatto tanto bene o comunque l'anno scorso ha giocato in serie B inglese ha fatto 18 presenze o anche allo Sporting Lisbona che è una signora squadra ha fatto 17 presenze nel 2012 quindi io comunque un'occhiata gliela darei come a Gallas ottima esperienza Tottenham a Marse al Chelsea lo stavamo prendendo perfino noi allo Schalke immaginatevi cosa possa fare in una serie B italiana ma secondo me sarebbe veramente un ottimo acquisto che prendete con due spicci e Gallas viene al Bologna quindi non ci sarebbe nemmeno questo problema o anche Mathieu Beda o Beda non so no Beda comunque 32 anni circa anche lui con 300.000 euro ve lo portate a casa è un ottimo ottimo difensore 1,88 marcatura contrasti colpo di testa impegno determinazione massima relazione veramente un ottimo difensore non conosco la storia Zurigo Bordeaux Standard Liege quindi un ottimo difensore è da due anni fermo quindi vi consiglio di prenderlo subito e farlo allenare a bomba comunque sono tutti ottimi difensori un po' meno Tuya ma l'ho consigliato proprio che lo prendete con due spicci e ha buone qualità tecniche difensive quello che pecca è le qualità mentali e questa è l'unica cosa quindi forse vi consiglio un po' più questi tre o nel caso avete soldi da spendere Simone Romagnoli invece come prima punta un due acquisti low cost che sarebbero Mitrovic parametro zero e buon voglio solo vedere se lo potete prendere si lo potete prendere perché in serie B c'è problema extracomunitario ma giustamente la Svezia e Europa comunque ve lo consiglio perché può diventare un buon attaccante un metro e novanta non è il nuovo Ibrahimovic però è un buon sostituto che comunque non pagate tanto e un altro low cost è Carmine De Sena dal Parma è fra i cedibili addirittura lo potete prendere in prestito circa 400.000 euro e vi prendete comunque un attaccante che non è comunque scarso impegno 15 posizione senza palla dripling finalizzazione 13 no scusate 12 velocità 13 l'unica cosa la massima elevazione un po' deve migliorare però secondo me come low cost non è male se invece volete spendere un po' più di ah ancora un altro low cost è questo Yuamna che non è male e lo prendete con 100.000 euro giusto per ripeto vi consiglio molto questi low cost perché li prendiamo come panchinari insomma se invece volete comprare un giocatore anche per il futuro cioè o meglio per il futuro perché sono ottimi insomma in prospettiva vi consiglio questo Salvatore Lancia della regina che con circa un milione e mezzo ve lo portate a casa e diventerà comunque un ottimo ottimo attaccante se no più famoso George Puskas rumeno circa anche lui un milione e mezzo potesse anche prendere in prestito con diritto di riscatto e sicuramente diventerà un ottimo attaccante lo assicuro mi pare che ha anche 5 vabbè no comunque ha 5 di stelle in potenziale quindi vi consiglio anche lui e niente ragazzi questo è questo è il Bologna questo vi consiglio difensori e prime punte più difensori insomma anche perché in panca per le prime punte avete comunque Bentancourt e Rodriguez nel caso non riuscite a vendere quindi assolutamente un difensore e poi ragazzi sarebbe anche divertente fare una recensione per il Bologna nel 2015 perché è comunque una squadra quasi da rivoluzionale ci sono tanti centrocampisti che devono essere sostituiti se ne volete prendere uno vi consiglio che ne so Seymour che con noi allo Spezia ha fatto sfacere in serie B ha fatto una caterva di gol mi pare più di 15 oppure vabbè lo stesso Mutingai che si prende con poco ed è un ottimo centrocampista bobo non è male cioè al football manager 2014 è ancora il titolare dello Spezia qui è un po' più scarso però ve lo consiglio ugualmente e questi insomma vabbè come terzini oramai l'abbiamo detti quasi sempre uno che vi consiglio è ODA che vi prendete con poco e e questi ecco qualsiasi cosa come sempre chiedete nei commenti se ci avete qualche dubbio vi lascio comunque un po' con la tattica è il classico 4-3-3 stile fra virgolette Spezia però vi consiglio semmai di di non giocare in contropiede ma in standard perché comunque ha una squadra veramente molto valida se poi affiancate a maglietta un altro difensore di esperienza molto valido secondo me avete tutte le carte in regola per vincere il campionato della serie B e comunque a parte Galass che ha 36 anni questi due hanno 32 anni quindi non sono vecchissimi e quindi anche secondo me per l'anno prossimo potranno esservi d'aiuto vabbè detto questo spero che il video vi sia piaciuto come sempre un saluto da Mike94 ovviamente Football Manager Italia ciao ragazzi